Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video, scusate ancora la voce è un po' bassa ma sono ancora raffreddata però ci tenevo tantissimo a registrare questo video per ringraziare una persona speciale sto parlando di Daniela Grazie Daniela Grazie Daniela Grazie Daniela Ti mando un bacio grandissimo Dani Ti mando un bacio grandissimo Dani Ti mando un bacio grandissimo Dani Ciao a tutti Certe emozioni non muoiono mai, è un bene o un male Noi ce li vediamo al prossimo video, ciao a tutti Da Tony Tony Golfarelli Ti mando un bacio grandissimo Dani Ti mando un bacio grandissimo Dani